fare gli oroscopi sono un'appassionata ci credi ma credo solo le cose belle quelle brutte non ci credo diciamo così beh sì 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 perché mediamente quanto quante volte vai a farti le carte dove vai dammi l'indirizzo perché io anch'io dico che non ci credo ma in realtà ma in realtà ecco sono molto una volta ci andavo spesso adesso un po meno poi alla fine ci sono andata ci sono in passato ma tu che cosa chiedi il futuro cosa chiedi troverò un amore nuovo il lavoro l'amore la salute il lavoro no la salute mai perché perché c'ho paura se mi dicono qualcosa di molto la prima cosa che vorrei sapere la salute no davvero no stranamente e ci azzeccano su certe cose è comoda no è molto scomoda sinceramente anche perché è acciaio va bene allora ti do un altro indizio che dici dai quanto perso no non hai perso molto dai però schiaccia appena credi vai una bottega particolare a che fare con il futuro una bottega particolare ho capito hai capito meno male un mio amico mi ha fatto uno scherzo sì mi ha detto raccontalo no faccio una figura adesso da deficiente ecco perché sì perché siccome ho questa passione qua delle carte fondi di caffè così questo mio amico mi ha detto che c'era un posto qua a Roma dove leggevano i piedi e questo vuoi che ti copra un po no io ho un freddo a vederla così io ho un caldo è vero fa caldo allora questo tuo amico ti ha preso in giro sì mi ha preso in giro c'è un posto dove leggono i piedi e io dico ma dai leggono i piedi sì ma è questo sì è questo ma io non avevo mai sentito una cosa del genere sì infatti neanche io però ho detto la taccia i fondi no c'è la lettura della schiena anche ci sono svariate cose in per quanto riguarda questo tipo di insomma di cose questo mio amico sì no io come una cretina un po' un po' ero titubante dico ma vi state prendendo in giro vi state prendendo in giro insomma sono entrata nel negozio dove vendevano scarpe e articoli sanitari queste cose ma no ma figuriamoci se andavo no capito che era uno scherzo a quel punto ti hanno guardato un po' sì però sono entrata un po' convinta anche perché c'era sì infatti no sono entrata un po' convinta così poi c'era l'altro mio amico mi diceva sì questo è bravissimo perché stai proprio bene bravissima 145 secondi ti vuoi cambiare immagino perché non posso sedermi con questo abitino scomodito è obbligato a stare in piedi